Tutti i bambini hanno una squadra del cuore, ma qualcuno di loro, per la prossima partita, non potrà andare allo stadio. Lega B sostiene gli ospedali pediatrici Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gaslini di Genova nella raccolta fondi a sostegno delle famiglie dei bambini ospedalizzati. Sostieni anche tu il progetto B come bambini. Vai sul sito www.legabi.it Scendiamo in campo anche noi, insieme a voi.